E come si può credere a tutto quello che ti ritrovi a leggere Con quei tuoi pollici appiccicati al cellulare Faresti meglio ad iniziare un po' a ballare Perché è tutto un algoritmo Perché è tutto un algoritmo Perché è tutto un algoritmo Un algoritmo E come si può credere a tutto quello che ti ritrovi a leggere Con quei tuoi pollici appiccicati al cellulare Faresti meglio ad iniziare un po' a ballare Perché è tutto un algoritmo Perché è tutto un algoritmo Perché è tutto un algoritmo Un algoritmo Un algoritmo Un algoritmo Un algoritmo Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.